Musica Musica Ancora buongiorno di nuovo in diretta su Telefriuli per l'approfondimento quotidiano con a voi la linea una puntata oggi che apriamo partendo da Pordenone dove è stato presentato il premio Cavallini che è stato istituito a fine anni 90 dall'amministrazione comunale di Barcis in collaborazione con il famoso critico d'arte Vittorio Scarbi alla cui famiglia materna è dedicato il riconoscimento che sarà consegnato proprio dal critico d'arte il 25 ottobre tra i premiati di quest'anno c'è anche il regista Pupi Avati per saperne di più ci colleghiamo con Daniele Micheluzza a te Daniele buongiorno Buongiorno da Pordenone oggi presentazione del premio Cavallini un premio storico che da più di 20 anni conferisce a molte personalità di levatura anche internazionale un premio che è legato alla famiglia di Vittorio Scarbi che lo ha istituito proprio tanti anni fa insieme a Maurizio Salvador che è presidente del comitato organizzatore con noi c'è anche il sindaco di Barcis perché da lì è nato tutto Claudio Traina allora Salvador intanto chi sono i premiati di quest'anno? premio che verrà conferito 25 ottobre alle 17.30 proprio all'ex convento di San Francesco Sì, anche quest'anno come peraltro nelle 22 edizioni precedenti abbiamo degli illustri premiati ci sarà Pupi Avati al quale verrà assegnato il premio alla carriera poi avremo Franco Cordelli critico molto importante scrive sul Corriere della Sera al quale verrà assegnato il premio per la saggistica avremo poi Laura Pariani una delle finaliste del premio Campiello di quest'anno al quale verrà assegnato il premio per la letteratura e poi da ultimo un premio speciale a Erminia Dell'Oro è una scrittrice ha scritto molto sul tema dell'Eritrea e di Asmara ma poi anche ha scritto negli anni molte pubblicazioni per bambini è una figura sicuramente molto molto interessante come diceva un appuntamento questo nato nel 1996 a Barcis voluto da Vittorio Sgarbi in occasione di una sua partecipazione al premio Giuseppe Malattia della Vallata proprio per dedicarlo inizialmente allo zio Bruno che era un docente, un letterato e poi dal 2017 questo premio è stato ampliato a tutta la famiglia Vallini e quindi comprende anche la mamma di Vittorio recentemente scomparsa Larina e la zia Romana credo sia per Barcis ma direi per la provincia di Pordenone e per l'intera regione un riconoscimento importantissimo poter ospitare un evento qui da noi e sarà proprio Vittorio Sgarbi a consegnare questi premi il 25 ottobre sì, sarà lui che tra l'altro è qui in occasione dell'inaugurazione della mostra del Pordenone e sarà affiancato come ormai da tanti anni dalla sorella Elisabetta Sgarbi che è la direttrice della nave di Teseo Sindaco, naturalmente non è più in casa Barcis ma lì è nato ed è un'occasione importante anche per dare insomma uno slancio anche a livello nazionale proprio di Barcis Certamente questo premio che è nato all'attere del premio Malattia sicuramente è uno degli eventi penso che sia uno degli eventi più importanti a livello culturale della regione sicuramente nel tempo ha mantenuto tutte le sue caratteristiche di importanza e di rinnovo perché come diceva giustamente Maurizio ormai comprende tutte le discipline artistiche tra l'altro noi abbiamo nel 2017 Sinovato comprendendo anche tutta la famiglia Sgarbi che tra l'altro appunto è il testimone dell'eccellenza di questo premio E quindi appunto l'appuntamento è proprio per il 25 di ottobre alle 17.30 al convento di San Francesco Salvador, insomma l'invito naturalmente alle persone ad approfittare anche della presenza di Sgarbi e di questi importanti personaggi Beh direi di sì ecco perché anche la qualità dei personaggi premiati e poi la presenza di Vittorio Sgarbi ecco come tra l'altro giurato unico di questo premio ecco dà al premio stesso una grande caratura di tipo anche culturale e intellettuale quindi a mio modo di vedere è un'occasione da non perdere per chi può venire a seguire questo appuntamento Grazie allora Maurizio Salvador grazie anche al sindaco Claudio Traina per questo collegamento da Pordenone è tutto, a voi la linea Grazie a te Daniele Micheluz per l'occasione di due compleanni una sede nuova per arte, libro, onlus e fuori onda vacanza accessibile taglio delle nastre alla presenza dell'assessore regionale Alessia Rosonen che cosa rappresenta per lei anche per la regione appunto una realtà di questo genere che cerca di introdurre nel mondo del lavoro persone che hanno problemi Ogni azienda, ogni cooperativa ogni soggetto che ci aiuta nel difficile compito dell'inserimento lavorativo delle persone più in difficoltà in questo caso sicuramente parliamo di persone disabili ma sappiamo che la disabilità è molto vasta può essere molto temporanea e può riguardare tutti noi ed è la cosa di cui dobbiamo ricordarci ogni cosa come questa è come un topolino che riesce a passare una montagna e ottenere un grande risultato che è sociale molto prima che economico anche se in questo caso è anche economico che è di responsabilità verso il luogo nel quale vive verso le persone più deboli e questo è ciò per cui la politica ogni giorno è felice di poter dare il proprio contributo quindi doppio festeggiamento oggi qui compleanno e poi l'inaugurazione anche di una nuova attività che si aggiunge a quelle che propone arte libro sì una delle caratteristiche della cooperazione sociale è quella proprio di inventarsi sempre delle nuove idee e poi perseguirle a favore dei ragazzi che inseriamo e noi oggi festeggiamo sì l'inaugurazione dei nuovi locali che ci permettono di fare molti inserimenti perché ci permettono di acquisire più commesse ma soprattutto celebriamo 35 anni di attività di arte libro e 10 anni di fuori onda siamo partiti 10 anni fa così solo portando i nostri ragazzi oggi insomma è diventata una vera e propria associazione per quanto riguarda arte libro quella che era 35 anni fa un laboratorio artigianale di legatoria come si è trasformata si è trasformata ovviamente negli anni seguendo quello che era da una parte il mercato dall'altra le esigenze delle persone che inserivamo oggi abbiamo capito che il settore dell'assemblaggio che noi chiamiamo con un termine generico può voler dire lavorare del ferro come confezionare questi integratori permette di fare molti molti inserimenti e quindi di osservare le persone capire le loro potenzialità capire se possono essere inserite poi nel mondo del lavoro piuttosto che verso un altro percorso questo è di fatto il nostro mestiere e ci troviamo tra l'altro nel laboratorio dove proprio vengono predisposte le scatole proprio della sua azienda le confezioni che cosa rappresenta per lei questa possibilità di dare la possibilità alle persone di lavorare a tutte le persone allora guardi noi un anno fa abbiamo cominciato concordando anche con l'ufficio regionale del lavoro questo esperimento diciamo di non portare i disabili in azienda ma di portare il lavoro ai disabili in una struttura dove loro possano avere anche delle persone che in qualche modo li seguono e li mettono nella condizione di lavorare beh abbiamo avuto delle sorprese fantastiche perché abbiamo capito che attraverso il lavoro hanno ritrovato una dignità hanno ritrovato la felicità di finire la giornata facendo delle cose e poi magari qualche volta alcuni prodotti fanno anche la pubblicità alla televisione quindi portano anche dentro le famiglie la gioia secondo me è veramente un esperimento che spero riusciremo a rendere più strutturato e strutturale perché è vincente per tutti un progetto importante anche questo che si abbina all'iniziativa di occupare le persone che hanno problemi il Fuori Onda nasce proprio per questo per creare un ambiente alternativo al contesto lavorativo è nato una decina di anni fa è nato per i ragazzi e i soci di Arti Libro e nel tempo è cresciuto è cresciuto perché è stata un'esperienza straordinaria bellissima che ha permesso anche ad altri ragazzi di altre realtà di altre onus istituti o appartenenti anche semplicemente vivendo in famiglia hanno deciso di unirsi a questo gruppo che è cresciuto perché la prima esperienza avevamo circa una decina di ragazzi l'anno scorso abbiamo portato in vacanza più o meno una novantina di persone con disabilità più diverse da disabilità cognitive fisiche gravi non gravi avvalendoci ovviamente di persone capaci di fare poi il loro mestiere perché c'è una parte medica importante infermieristica per poter garantire la sicurezza e la serenità poi dei ragazzi e delle famiglie Onorevole questo è un esempio che può essere seguito anche nel resto del paese è un modello friulano ed è un modello che possiamo definire unico o tra i pochi in ambito nazionale dobbiamo far sì che venga implementato anche il fondo per l'accesso al lavoro delle persone disabili e io di questo mi impegno con un emendamento a fare in legge di bilancio e mi auguro che la politica riesca a lavorare in modo coeso su questo argomento di cui troppi ne parlano ma poi a lato pratico si ottengono dei risultati che sono sufficientemente scarsi sufficientemente scarsi perché perché poi si fanno sempre i conti con il bilancio e non si guarda davvero quello che può essere un problema fondamentale anche per la crescita sociale di questo paese che è un'integrazione reale e vera con le persone che disabili noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità torniamo tra poco parliamo tra le altre cose di una manifestazione importante come a Improsit poi c'è la rubrica il libro nel cassetto a tra poco si chiama SOS Eventi ed è un nuovo sportello dedicato lo dice il nome alle manifestazioni ma per capire più in dettaglio che cosa sia e come funzioni seguiamo insieme il prossimo servizio è il Friuli Venezia Giulia la prima regione in Italia ad attivare lo sportello SOS 20 a gestirlo saranno le Proloco un ufficio che viene istituito presso la sede del comitato regionale a Villa Manin lo troviamo nella legge 7 che è stata approvata quest'anno dal legislatore regionale e credo che questo sia un riconoscimento molto importante al lavoro che in questi anni hanno fatto le Proloco come funziona questo ufficio abbiamo fatto un percorso di formazioni per 4 persone che sono già disponibili dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio al sabato mattino a dare informazioni e supporto a tutte le associazioni non solo Proloco che organizzano eventi temporanei sul nostro territorio ci sono normative da rispettare ci sono adempimenti da compiere gli uffici sono disponibili a supportare queste persone ad aiutarli ed anche ad inserire nelle piattaforme informatiche i dati in modo che tutti gli eventi vengano organizzati rispettando le norme e le disposizioni di legge con noi anche il consigliere regionale Mauro Bordini è uno strumento importante perché organizzare feste è sempre più difficile purtroppo assolutamente sì e devo dire che nel momento in cui ho proposto questa legge avevo l'aspettativa che si è creato uno strumento utile per le associazioni la Proloco regionale a cui abbiamo affidato come regione questo compito ha fatto un lavoro egregio e ha praticamente colto quello che era il senso della norma cioè creare una realtà con persone qualificate che siano completamente a disposizione di chi organizza feste, eventi e sagra nel territorio associazioni parrocchie comuni per dare informazioni su ciò che devono fare so che possono fare ciò che non si può fare come farlo e poi una cosa importante anche inserire le domande cartacee nel portale informatico suo perché molto spesso le associazioni soprattutto quelle meno strutturate hanno difficoltà e devono anche pagare poi magari soggetti esterni per fare piccoli addempimenti quindi questa realtà sì che sono convinto darà i suoi riscontri sul territorio e siamo contenti che oggi nasca e completi quello che è l'iter di applicazione della legge che abbiamo approvato in Consiglio regionale Ed è stiamo in tema eventi con una manifestazione in particolare a Improsit che per la sua ventunesima edizione si sdoppia tra Tarvisio e Udine Ancora Isabella Gregorato Primo esperimento con una manifestazione che viene in un certo senso sdoppiata perché Tarvisio è quest'anno per la prima volta a Udine che cosa vi aspettate? Noi abbiamo fortemente voluto questa manifestazione una piazza importante più ambiziosa come quella di Udine negli anni aveva ben figurato in quel di Tarvisio abbiamo detto alziamo l'asticella della sfida quindi io ringrazio il Consorzio Tarvisiano per aver portato questa manifestazione a Udine e ringrazio anche il Comune di Udine per l'ospitalità è una manifestazione che in questi anni ha dimostrato quanto l'enogastronomia quanto il connubio enogastronomia paesaggio cultura possa dare dei risultati da un punto di vista dell'attrattività molto importante ho letto il palinsesto ho letto i nomi che presenzeranno in queste giornate sono tutti nomi di altissimo livello internazionale quindi il Friuli Venezia Giulia la città di Udine vetrina vetrina dell'enogastronomia a livello mondiale come si sente Udine ad ospitare una manifestazione che tradizionalmente era esclusivamente nel Tarvisiano? io ritengo che ormai a Improrita abbia raggiunto livelli tali di internazionalità che appartenga a Tarvisia appartenga a Udine ma appartenga all'intera regione Friuli Venezia Giulia io penso che sia un'occasione unica ed irripetibile per promuovere il nostro territorio nella sua interezza e soprattutto avere la presenza qua dei migliori chef 50 chef a livello internazionale rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio ed è anche un modello perché queste contaminazioni assieme ai ristoratori assieme alle notteche di Udine di Tarvisio della nostra regione sarà senz'altro un qualcosa di eccezionale un modo per confrontarsi sempre partendo da quelle che sono le nostre eccellenze quindi i nostri vini i nostri prodotti tipici ma un modo per miscelare quelle che sono la cucina internazionale con quelle che sono le tipicità del territorio del Friuli Venezia Giulia Assessore Lager che cosa pensa del fatto che appunto quest'anno la manifestazione si sdoppi cioè un'anteprima nel Tarvisiano e poi il clou della manifestazione nel capoluogo del Friuli Allora guardi Tarvisio perdona Amprosid nasce a Tarvisio cresce matura a Tarvisio e ormai è arrivata la maturità per andare per laurearsi è venuto nel capoluogo friulano a Tarvisio non abbiamo l'università permettetemi la battuta e il respiro ormai di Amprosid è talmente ampio che secondo me è giusto che abbia una vetrina molto più grande ricordo comunque che abbiamo tre cene molto importanti quindi abbiamo Virgilio Martinez abbiamo Tim Butler e nel solco della tradizione friulana Giancarlo Toso e quindi credo che anche in un'ottica senza confini sia stata una scelta vincente E ora scopriamo chi è l'autore protagonista del libro nel cassetto la rubrica a cura di Chiandetti Editore Buongiorno e benvenuti all'appuntamento settimanale del libro nel cassetto angolo dell'autore di Chiandetti Editore oggi siamo in compagnia del professor Vito Sutto buongiorno buongiorno Elisa ex docente di lettere nella scuola media superiore giornalista pubblicista e critico d'arte Vito è anche autore storico e collaboratore della Chiandetti Editore di Reana oggi andremo insieme ad approfondire i volumi giornale di Udine 1918 1919 la profuganza dei friulani scritto dagli autori Appiotti Folisi Menis Falcone e Foschi come potete vedere l'opera è costituita da due volumi quello di dimensioni maggiori riporta le copie anastatiche del giornale di Udine a partire dal 10 febbraio 1918 al 29 gennaio 1919 mentre quello di dimensioni ridotte presenta l'approfondimento storico scritto dagli autori citati in precedenza sappiamo che con l'anno 2019 in corso rientriamo ancora nel centenario di celebrazione della grande guerra pertanto quest'opera è un argomento di interesse storico commemorativo e appunto ancora attuale do a questo punto la parola a Vito che ci offrirà una panoramica a riguardo sì sì tu dici bene siamo ancora nell'anno del centenario perché è il centenario in questo senso del ritorno no? in quanto la profuganza durò nel periodo fine 17 il dramma di Caporetto è datato fine ottobre 17 quindi i profughi fuggirono e Letta parla proprio di 600 mila friunani al di là dei numeri fossero stati di meno ecco ha poco significato quello che conta è che ci fu veramente una migrazione di massa e durò nel corso del 17 poi anche nei primi mesi del 18 e durò fino al 19 inoltrato con il gennaio del 19 appunto cominciano a ritornare i profughi che si recarono in Liguria certamente ma principalmente in Toscana perché va detto che la Toscana fu la regione più aperta e più disponibile addirittura alcune vicende ci narrano di una generosa accoglienza che ha dato vita poi a incontri che si sono chiusi anche in ambito matrimoniale quindi c'è stata veramente un'apertura della Toscana nei confronti di questi friulani ed è un'apertura che ci fa venire in mente oggi come noi potremmo comportarci con i profughi e comunque le vicende della guerra sono quelle abbastanza note il conflitto scoppia nel 1914 l'Italia entra in conflitto nel 15 e Udia diventa immediatamente e drammaticamente la capitale della guerra e nel 1917 il disastro di Caporetto determina questa sconfitta dell'esercito italiano questa retrocessione fino al Piave con la fuga dei 600.000 come scrive Letta o comunque 400.000 come altre fonti indicano è un po' difficile parlare di numeri in questo momento storico di questi friulani che se ne vanno e cosa fanno quando sono in Toscana questo è importante immediatamente danno vita a dei gruppi di lavoro e uno di questi gruppi di lavoro fa nascere il giornale di Udine perché il giornale di Udine naturalmente esisteva già e si pubblicava in Friuli ma questo è il giornale pubblicato proprio in questo periodo 18 e 19 fino ai primi giorni di gennaio 19 appunto a Firenze Firenze che diventa un po' il punto di riferimento dei friulani in Toscana e ovunque in Italia e questo giornale di Udine è un giornale che proprio lega le radici a una terra che non è dimenticata e che non sarà mai dimenticata esattamente quindi lo scopo è proprio questo onorare i profughi friulani e ringraziare anche l'ospitalità dei fiorentini effettuare appunto una ricostruzione storica precisa delle vicende con le coppie anastatiche e anche informare i giovani su questa importante pagina della nostra storia io ringrazio dunque Vito per questa intervista da parte della Chiandetti Editori se siete interessati a questo libro potete prendere nota delle informazioni in sovrimpressione e se anche voi avete scritto un libro storico come questo piuttosto che alcune poesie il diario di famiglia un romanzo contattateci per un appuntamento senza impegno così da preparare per voi grafica impaginazione e stampa e sarà un lavoro eccezionale perché Chiandetti è una garanzia storica grazie Vito è la verità arrivederci alla prossima puntata è il momento delle previsioni del tempo vi ricordo a seguire l'appuntamento del venerdì con il punto di Enzo Cateruzzi l'ospite di oggi Enrico Bertossi consigliere comunale di Udine capogruppo appunto in consiglio comunale di Prima Udine grazie per averci seguito buon pomeriggio ben trovati con l'aggiornamento metodo del mattino buongiorno a tutti qua vediamo la situazione alle mie spalle con la depressione che porta delle correnti più umide ma soprattutto da domani e tra domani e lunedì correnti umide porteranno un po' di pioggia ma anche dell'aria calda e mite di provenienza sud occidentale quindi andremo sì verso un certo peggioramento ma limitato qua vediamo intanto la situazione prevista per oggi con la presenza di nubi basse qualche debole pioggia sulle prealpi sulle zone orientali possibile comunque anche sulla pianura qualche foschia densa locali nebbie un po' più di apertura verso sud ma insomma tempo umido grigio con massime però che potranno arrivare ai 20-22 gradi e questa è la situazione prevista per domani con invece l'aumento ulteriore della nuvolosità forse qualche apertura in più avremo proprio sulle zone meridionali ma nel complesso cielo tra molto nuvoloso e coperto la possibilità di piogge sparse in genere deboli ancora a temperature elevate fino a 21-22 gradi poi arriverà forse una nuova diciamo nuova aria umida fino a lunedì ma poi martedì rialzo termico e fase senza precipitazioni questo può significare in assenza di nubi un periodo magari due due o tre giorni ma di gran caldo per questa fase stagionale intanto vediamo le piogge tra domenica e lunedì diciamo molto rare in pianura nella giornata di domenica qualcosa in più sulle prealpi ma temperature fino a 24 gradi le schiarite di cui vi parlavo tra martedì e mercoledì con foschie e nebbie ma con temperature temporanee fino a 25-24 25 gradi quindi veramente temperature miti vi aspetto stasera con Mete Weekend alle 19.30 un saluto a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi Grazie.